Ciao ragazzi, eccoci qua con le prime pagelle del 2022, tra l'altro nel pomeriggio ho intenzione di portarvi anche l'analisi tattica di quella che è stata Juventus-Napoli per capire un po' come ha giocato la Juve, se meritava la vittoria oppure no, per vedere anche nel dettaglio alcune situazioni di gioco e per analizzare qualche statistica interessante, quindi vi chiedo di lasciare tantissimi mi piace a questo video per proiettarmi sul nuovo contenuto che andrò anche a portarvi oggi pomeriggio e per capire se siete d'accordo con me nelle valutazioni invece dei singoli giocatori e allenatori. C'è OneFootball, il link per scaricarlo è qui sotto in descrizione, fatelo perché un'applicazione come OneFootball sul vostro cellulare non può mai mancare. Veloce, immediatamente vi arrivano tutte le notifiche e ovviamente in un momento in cui la Juventus qualcosa dovrà fare sul mercato diventa indispensabile averlo. Parto da Allegri, la mia valutazione da Allegri è negativa quest'oggi, il voto è 5 ma vado anche a spiegarvi il perché. Da Allegri pretendi sempre tanto, è inutile prenderti in giro, nel momento in cui hai Allegri in panchina devi capire che devi puntare per le primissime posizioni, per una marea di robe che sono la storia di Allegri, l'ingaggio di Allegri, il peso di Allegri. Quando dopo un girone d'andata come questo la Juventus si ritrova quinta in classifica che ha la possibilità di infliggere il colpo di grazia al Napoli per il momento ovviamente non definitivo ma a livello morale glielo vai veramente a dare un bel colpo di grazia, io non posso accettare che la Juventus sia la stessa squadra con gli stessi atteggiamenti che commette gli stessi errori delle prime partite, della prima parte di campionato. È questo che voglio da Allegri, ragazzi è questo che pretendo da Allegri, che in queste partite qui si vada a sentire l'odore del sangue perché Allegri i campionati ne ha vinti tanti, vinti, vinti vuol dire elevare primo e ne ha vinti sei in carriera con due squadre diverse, con due società diverse perché squadre anche la Juve ne ha cambiate tantissime, ha avuto tantissimi giocatori diversi. Io ho la sensazione che ancora Allegri non si è riuscito a trovare la quadra di tutto, non c'è ancora riuscito. Se aggiungo che secondo me alcune sostituzioni sono arrivate in ritardo, tipo Di Bala ha giocato mezz'ora, avrà toccato quattro palloni, se aggiungi che sono arrivate in ritardo e comunque i cambi di Allegri non incidono più come una volta. Eccoci qua, la sensazione che ho avuto ieri sera alla fine della partita era di una partita che avevo già giocato nella mia testa, sapevo che sarebbe andata così, sapevo che avremmo commesso gli stessi errori, l'avevo già vista ragazzi, perché è l'ennesima partita con lo stampino di quest'anno e allora se per la prima parte di stagione dove siamo andati male è andata così, ok la mettiamo da parte, nella seconda parte dobbiamo avere ben chiaro tutto quello che è successo nella prima, tutti gli errori che abbiamo commesso nella prima e nella seconda non ne dobbiamo più commettere. Quindi il voto secondo me è negativo dell'allenatore per come ha interpretato la partita, che l'ha pure preparata bene, perché la Juventus lo ribadisco non ha fatto una brutta partita, ne parleremo nell'analisi tattica ma ieri sera la Juve non ha fatto una brutta partita, ma manca sempre quel qualcosa in più e allora se vuoi raggiungere determinati livelli, quel qualcosa in più ce lo devi mettere e se non ce lo metti, ti meriti l'insufficienza e posti in classifica, quinto, sesto, settimo se si fa presto. Scesni 6, non è colpa sua sul gol, anzi è stato addirittura sfortunato perché parando quel pallone lì, De Litt è stato tolto dall'orbita della direzione del pallone che avrebbe respinto lui ha fatto una bella parata centrale su Zerischi, poco altro, io penso che il 6 sia il voto più giusto per il portiere, che non mi sento di mettere tra i colpevoli un gigante, ragazzi come giganteggia De Litt pochi altri gioca con Rugani tra l'altro al suo fianco, quindi sicuramente ha anche dei compiti in più e riesce a non farlo sembrare un giocatore che non gioca praticamente mai in Serie A o che gioca soltanto a spot, a chiamata nei momenti più critici della stagione. De Litt tutte le volte è il giocatore in più lì dietro e ieri sera anche un paio di occasioni in attacco, quindi più di così io penso che De Litt si possa beccare il suo 7 in pagella e il suo compagno di reparto appunto Rugani non solo 6 ma 6 più, perché un giocatore che non gioca mai viene chiamato a giocare una partita così delicata e comunque tutto sommato non la sbaglia, ci sono state alcune impressioni, si vedeva alcune volte che era un po' lento macchinoso nell'impostare azione da dietro, cosa che io avevo fatto tante volte, non è che a Rugani gli puoi chiedere giochi una volta e giochi pure bene, quindi secondo me Rugani, guarda esagero 6 e mezzo Rugani, esagero col 6 e mezzo Rugani, voglio dare 6 e mezzo pure a quadrado, non tanto perché c'è stato nelle giocate decisive, no però è il giocatore a cui la Juventus si affida sempre nei momenti decisivi, mi ricordo Quadrado Locatelli che gli passa il pallone, tante volte Quadrado stesso che chiama i passaggi anche sul finale, quell'ultima occasione che andiamo a creare, chi la crea? Quadrado, perché tutti cercano Quadrado, perché sanno che una sua giocata, un suo cross può nascere qualcosa di interessante, Quadrado il cross lo mette, che non è bravo a impattare, però con l'azione lì la costruisce Quadrado, perché è sempre lui, anche l'azione del gol parte da Quadrado, che è il nostro regista, dal basso vede la verticalizzazione importante per McKennie che si butta nel corridoio, Quadrado gliela dà, giocatore in più, insostituibile, ora mi ricordo perché lì dietro, in difesa, lo volevamo un po' tutti, perché ci dà quell'opzione in più, che diversamente invece non avremo, quindi buon Quadrado, 6 e mezzo. Poi c'è Alessandro, c'è tu un mio amico, c'è tu un mio amico. Quella piruetta la vai a fare al ballo delle debuttanti, più guardiamo il gol che abbiamo preso e più ci rendiamo conto che a questi livelli Alessandro è impresentabile, è impresentabile. Io, lo dico tranquillamente, da qui alla fine della stagione, se c'è Alessandro Pellegrini De Sciglio, sulla sinistra la mia preferenza è la seguente, Pellegrini, De Sciglio, Alessandro. Esagero, anche Danilo, dato che può fare pure il terzino e sinistro, Pellegrini, Danilo e De Sciglio a pari merito a seconda di chi mette poi sulla destra e Alessandro. L'ultimo della lista, impresentabile a questi livelli, secondo me da 4 e mezzo. Il gol che prendiamo è un'offesa alla Serie A, non si può prendere un gol del genere con un giocatore che ti fa due robe del genere. Impresentabile. Locatelli e McKennie, quel qualcosa a centrocampo che per fortuna ci sono loro, non la partita migliore del mondo, anzi McKennie, devo dire la verità, nel primo tempo abbastanza impreciso sia nei passaggi sia nella finalizzazione, quel colpo di test dopo pochi istanti, veramente da manicomio non buttarlo dentro, da manicomio. Però poi anche sull'azione del gol è bravo lui a andarsela a creare, invece Locatelli è sempre quell'uomo d'ordine e di geometria che l'Aventus serve, sventagliate a destra a sinistra, verticalizzazioni, lanci lunghi, è un giocatore essenziale. Poi ieri sera non hanno fatto la partita migliore del mondo, nessuno dei due, quindi secondo me sono da sei entrambi, però meno male che ci sono loro, meno male che ci sono loro, meno male che ci sono loro perché le alternative poi rispondono al nome, al cognome di Adriel Rabiot. Anche qua, che cosa fa Rabiot? Cioè qual è il senso nel mondo di Rabiot? Qual è la peculiarità, la caratteristica che dite? Nella mia squadra, meno male che c'è Rabiot perché fa questo. Questo che? Cosa? Perché? Dove? Inesistente! Possiamo chiamarlo Kasper? Lo si vede una volta per fare quel tiro nel primo tempo e poi basta. Ma dai, ma... Com'è da cinque? Cioè è un giocatore che non c'è in campo, mai? Mai! Non ha molto senso di esistere questa cosa, eh? Bernardeschi sei, sei da compitino però, non ho visto il Berna provare chissà che cosa, forse perché ieri c'era Chiesa che si è preso un po' l'attenzione, il monopolio della partita e allora Berna si è messo al servizio di tutti gli altri. Non ha fatto una brutta prestazione, ma nemmeno una prestazione sulla falsa riga di quello che aveva provato a farci vedere sul finale della stagione precedente. Non ha giocato male, tra le linee si è fatto trovare pronto, però non ci ha mai messo quel qualcosa in più e quindi si becca il sei da compitino. Federico Chiesa, forse sarò esagerato, eh? Ma lo voglio valutare con sette e mezzo. Vi spiego anche il perché. Non giocava da una vita, era fermo da un sacco, titolare e si fa 82 minuti e li fa alla grandissima. Poi aveva la lingua che gli arrivava qua, Allegri lo toglie e mette Coluseschi per gli ultimi minuti di gara, ma quello ci sta. Giocatore che tira più in porta, giocatore che crea più occasioni per la Juve, giocatore che corre di più per la Juve, che copre più porzioni del campo per la Juve, che affettua più recuperi per la Juve, che ci mette più cattiveria per la Juve, che trova il gol e poteva trovarne altri nella Juve. Devo continuare? Eh, meno male che c'è Federico Chiesa. Ragazzi, la prestazione di ieri di Federico Chiesa è feroce, è una cattiveria incredibile, ma è una roba allucinante. meno male, meno male che dentro tutto questo mare di negatività che è la Juventus in questo momento c'è Federico Chiesa, perché è veramente l'ancora in mezzo al mare a cui dobbiamo aggrapparci per non affogare. È una boa, è un salvagente. Tutti aggrappati a Federico Chiesa. Chiesa più altri dieci. E quei dieci possibilmente che non siano rabbio a Alexandro. Morata, allora qua possiamo fare copia in colla di tanti video. Per me Morata è da 5. È da 7 per l'impegno, per come si sbatte, per come si mette a disposizione della squadra. Poi se il centroavanti era Juventus, se fa zero tiro in porta. In 90 minuti praticamente, in 80 minuti. Zero tiro in porta. Centroavanti era Ju. Un'occasione. La spreche tirando fuori dritto per dritto. Ragazzi, io lo so che tanti mi continuano a dire Eh, gioca a 60 metri alla porta. Ma non è vero. Cioè, intendiamoci. Ci sono delle partite in cui questo accade. Ma ci sono anche delle partite in cui questo non accade. Ieri la Juventus è stata più alta a tratti del Napoli. Ma è il centro più alto. La Juventus ha creato più occasioni da gol. Ci è andata meno vicina, se vogliamo. Ma la produzione offensiva della Juventus ieri c'è stata. La Juve ha fatto una gara ieri in cui ha creato. E non finalizza. Perché senza Chiesa ieri nessuno è stato in grado di fare qualcosa. E il centroavanti della Juve in questo non ti aiuta. Perché Morata è inadatto per il gioco che gli viene richiesto dall'allenatore. E quindi sicuramente allegra delle colpe. È quello che mi incazzo quando sento che la Juve va bene che rimanga così, che in attacco non serve niente. Ma non è vero che non serve niente. Non è vero che non serve niente. Se l'attaccante della Juve è incapace di tirare in porta e tira poco in porta, io gli voglio benissimo ad Alvaro. E lo so che si sacrifica e fa un sacco di lavoro sporco. Però l'attaccante il centroavanti, il bomber, il numero 9 della Juve, non può fare cinque gol in un girone d'andata e verosimilmente farne altri cinque nel giro di ritorno. Il titolare della Juventus non può concludere la stagione con una decina di gol segnati in campionato. Non può esistere questa cosa. Non deve esistere questa cosa. Perché poi ti spieghi perché sei lì. Ti spieghi perché in 20 giornate hai fatto 28 gol. la Juventus crea, ma è imprecisa. La Juventus tira tanto, ma non becca la porta. E la Juventus, se becca la porta quelle poche volte, non fa gol. E serve qualcosa in più lì. Io non so più come dire. È un copy-in-colla continuo di tanti video, di tante valutazioni. Ma ancora una volta, non è colpa di Morata, cazzo. Non è quello. Non è lui. Chiediamo a Chiellini di fare il trequartista allora la prossima volta. Chiediamo a De Sciglio di fare il portiere. E poi dice, ah, figa però, non para. Non fa l'ultimo passaggio. È per forza. Alvaro Morata non può essere l'attaccante titolare della Juventus che vuole ambire a delle posizioni nobili di classifica. Se no, titolare Morata, va bene. Allora siamo da quinto, sesto, settimo posto. Ma non perché Morata non sia da Juve. Per me Morata è un ottimo attaccante che nella Juve ci sta. Ma come ricambio? Deve essere la seconda linea. Nel momento in cui diventa la prima, la seconda è Moise Ken, che una volta era il nostro ragazzino delle giovanili e non mi sembra che ci sia stata tutta questa evoluzione di Ken. Anzi, forse mi sembra addirittura involuto. Allora, quando vai a responsabilizzare dei giocatori che in quel momento non sono adatti per quelle responsabilità, Morata dovrebbe essere la seconda e che è la terza di opzione, lì davanti. Invece abbiamo Morata che è la prima e che è anche la seconda. E secondo me è tutto lì. Oltre al fatto che comunque ancora siamo lontani da essere una squadra di calcio e le ragioni su Allegri le abbiamo già spiegate all'inizio video, ma non può essere sempre colpa di Allegri. Cioè su altre cose è colpa anche dei singoli. E non è proprio colpa dei singoli. Perché poi qua le colpe secondo me vanno su chi questa squadra l'ha costruita e chi ha ritenuto Morata attaccante titolare con Ken seconda linea e che poi a gennaio non vuole intervenire sul mercato per modificare questa scelta scellerata che è sotto gli occhi di tutti e sono 28 gol in 20 giornate. Dove vuoi andare così? Andremo in Europa lì, che cosa vi devo dire? Poi subentrati Di Bala, Moise Ken, Desciglio e Bentancurri li prendo e li metto tutti in un calderone, tutti insieme e dico che sono da sei, da compitino, perché davvero non si sono visti. Come li valuti questi? Kulusevski senza volto ovviamente ha giocato una decina di minuti. Gli altri due palloni toccati a testa o gli dai cinque perché non si sono fatti vedere in venti minuti, venticinque minuti o dici compitino. Allora Di Bala recupera quel pallone appena entra e tira in porta più la punizione finale. Bentancurri recupera un paio di palloni. Ken strozza quel tiro nel finale. Ha giocato mezz'ora. Spero ognuno c'hai mezza roba da dire. Cinque e mezzo. Tra il cinque e mezzo e il sei da compitino. E quello che dico, i cambi non incidono. Allegri ha sempre avuto l'idea del aggiusto la gara partita in corso. Proviamo ad aggiustarla, i giocatori che entrano fanno due robe in croce. Vabbè ragazzi, allora dove vogliamo andare ancora una volta? E questo ormai è il senso di rassegnazione. È il senso di rassegnazione la cosa grave. Che questa la ritenga una cosa normale. No, questa non è una cosa normale per la Juventus. Questa è una cosa normale per questa Juve. Perché non è una squadra di livello. Per tutto. Per chi l'ha costruita, per chi l'allena, per chi ci gioca. Per tutto. Perché tutti hanno delle colpe. Quindi, arrivare al punto di dire non sono stupito, anzi me l'aspettavo è la sconfitta peggiore per me. Proprio perché se, fino adesso, è stato così bene hai ancora l'incredibile possibilità di riaprire tutto e però devi darti una mossa. Devi darti una mossa perché non ti cadranno i risultati addosso. Gli altri non ti diranno ascolta, sai quasi quasi ti regalo qualche punto perché mi stai simpatico. No, delle due succede il contrario. Gioco col coltello tra i denti perché ti butto fuori dalla Champions. Se non arriva da dentro di noi questa cosa del voler dare quel qualcosa in più quel qualcosa in più che vedo negli occhi di De Ligt nella rabbia che ha De Ligt quando subisce quel gol perché sa che la Juve due gol probabilmente non li farà non si potrà impegnare ma non li farà perché ci sono dei problemi. E quindi quel salvataggio sulla linea nella testa di De Ligt che è un giocatore più avanti di mentalità rispetto a tanti altri significava che quella partita non la vincevi. O lo stesso Chiesa lo stesso Chiesa che continua a lottare le scintille con Quadrado stesso significa che i giocatori comunque ci tengono. Sono quei tre, quattro in più che davvero dici wow, meno male che ci sono loro. Per tutti gli altri mi sembra un agglomerato di eh vabbè ragazzi è andata così vediamo la prossima ma no 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 perché a forza di dire vediamo la prossima ti scivolo addosso il campionato. E questa è la più grande sconfitta dire siamo questi perché noi siamo questi è inutile che siamo qua a dire no, noi in realtà no, no, noi siamo questi noi siamo questa squadra qui il campo, i risultati ti dicono che squadra sei e noi siamo questa squadra qui e lo capisci anche dagli atteggiamenti di tanti tutto qui e dato che il mercato è aperto secondo me bisogna pensarci non una non due non tre non quattro non cinque ma ben dieci volte perché sappiamo bene quali sono i problemi e sappiamo bene che cosa abbiamo affrontato negli ultimi mesi non intervenire oggi significa semplicemente fartelo andare bene diventi complice se te lo fai andare bene diventi complice